di santi candro garganico e manco le scalette ma io ho fatto le scalette prego prego e Leonardo grazie però questo schiaffo no grazie a te per l'esempio che ci dai esempio di vita e di tenacia purtroppo quando si è soli si soffre un buco perché non c'è l'avversario io me lo so procurato da solo perché ho messo Leonardo contro Caruso dicevo durante la corsa forza Leonardo che Caruso ti prende poi li ho fatti vincere tutte e due perché sei uno sportivo bravo Leonardo e bravo Caruso premio speciale a Leonardo Caruso SM80 primo atletica San Nicandro l'applauso di tutta Manfredonia per lui grazie